Nuovo Admin, Oldslainer, Plansch, partellore di Tureis, scatta verde, andiamo a vedere, Oldslainer cerca di accentrarsi, ma nuovo Admin, Plansch, gira davanti a tutti, andiamo a vedere la staccata, se ne va la due planche. Poi, Keto, ha idea, in questa posizione, ha lasciato sfogare gli avversari, poi ha lasciato sfogare gli avversari, poi ha lasciato sfogare gli avversari, poi ha lasciato sfogare gli avversari, Stato, Pes, 35, 624, primo settore, e si invola, a concludere il primo giro. Armand, proprio fin, ah, Armand, pilota ancora dentro lì, arrivano in questi stanti gli scrittori, Il pilota è uscito molto bene, e Renato Velino è andato a fuoco a una macchina. Non sarà un caso!